La puntata di oggi dello sportello del cittadino è riservata all'Adoc Puglia. Parleremo di immigrazione, di tutela dell'immigrato e illustreremo anche un progetto di Adoc Puglia. Lo faremo con Vanessa Giannotti, lei è una volontaria del servizio civile. Allora parliamo di immigrazione, un tema davvero caldo in Italia e in Puglia in particolare. L'immigrazione rappresenta un fenomeno molto strutturato sia in Italia che negli altri paesi ovviamente. La Puglia rappresenta il perno di questa situazione proprio perché viene vista sia come una terra di approdo ma anche una terra ponte verso gli altri stati dell'Unione Europea. Infatti a livello locale, proprio nella provincia di Bari, quindi tramite la nostra sede e nella provincia di Foggia, sono le mete più gettonate, proprio perché i migranti scappano dalle loro terre per povertà o anche per motivi politici, quale guerra, eccetera, e cercano lavoro. Questi vengono sfruttati e noi, associazione, cerchiamo di tutelare i loro diritti. Qual è il vostro progetto? Sì, a prescindere da tutto, noi tuteliamo i loro diritti come cittadini, quindi come qualsiasi cittadino italiano. Quindi cerchiamo di sviluppare tutto secondo il tema dell'uguaglianza. Infatti il nostro progetto si chiama proprio Informare, Assistere ed Integrare. Praticamente un qualsiasi migrato si potrà rivolgere ai nostri sportelli e verrà informato, nel caso in cui ad esempio abbia dei problemi con delle utenze, verrà informato tramite dei Deplian in multilingue, assistito durante la sua controversia, nel caso in cui ne abbia bisogno, e integrato proprio per evitare il fenomeno dell'esclusione sociale.